abbiamo messo dentro due pastiglie lavastoviglie 60 gradi tutto ben 60 gradi 2 ore e 23 minuti di lavaggio dentro città l'era sporco le guarnizioni sono sporche vediamo se funziona con queste pastiglie della lavastoviglie sono molto più aggressive vediamo se si scioglie tutto lo sport che c'è dentro ci vediamo più tardi fra due ore e mezza